Anche quest'anno siamo stati invitati presso l'associazione per la presentazione dei nostri sistemi e quest'anno precisamente parleremo del risanamento e isolamento termico intervenendo dall'interno. Situazioni abbastanza facili ma al tempo stesso necessitano delle piccole verifiche. Utilizzando soprattutto i materiali consapevoli e facilmente applicabili si riesce a creare un confort ambientale interno molto gradevole portando sempre a materiali igroscopici naturali e traspiranti. Presenteremo una gamma di 4-5 prodotti e delle piccole soluzioni adottate proprio nei casi specifici di adeguamento termico per edifici anche pubblici. Proprio in caso di edifici di una certa valenza anche storica abbiamo anche l'utilizzo di un materiale molto specifico, gli unici forse a livello europeo di un prodotto a base di calcio idraulico naturali e in tonaco aerogel. Proprio si tratta di un prodotto molto specifico per questi ambienti sotto tutela ambientale.